Si vota il 18 dicembre per le elezioni provinciali in cui si eleggeranno presidente il nuovo Consiglio. L'uomo del centrodestra, salvo clamorose sorprese, sarà l'uscente Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro. Caruso la benedizione del presidente della regione Marco Marsilio, dell'assessore Guido Liris e del sindaco Biondi, ma anche di Forza Italia. In questo scenario la Lega non dovrebbe mettersi di traverso. Caruso rivendica i buoni risultati ottenuti, nonostante la riorganizzazione delle province e le poche risorse. Ultima, la notizia di oggi, quella di Euroservizi, sono salvi nove posti di lavoro a Quilane ed è stato formalizzato il passaggio del personale ad Abruzzo Engineering. Ci sentiamo abbastanza soddisfatti del passato, che è una ragione per cui ci si sente pronti a rinnovare la propria disponibilità. È stata una gestione che oggi si è conclusa anche con un felice evento, il passaggio della Euroservizi in Abruzzo Engineering, quindi un evento che abbiamo salutato con grande soddisfazione. Un'operazione faticosissima che però ha visto la convergenza delle componenti sindacali, dei lavoratori e ovviamente una assoluta disponibilità della regione Abruzzo a convogliare questa vicenda. Per il futuro che cosa possiamo immaginare? Che tutte quelle azioni messe in campo, quindi la riorganizzazione della provincia, che è stata ovviamente un'azione importante e fondamentale, perché tutte le misure e le strategie di sviluppo, di rilancio che sono state messe a punto, potessero poi trovare azione e quindi forza nel sistema amministrativo che, viva Dio, lo abbiamo rinsaldato. Così come per le comunali dell'Aquila, la partita sembra più intricata nel centro-sinistra e si potrebbe aprire la strada ad un candidato più civico, i nomi che sono circolati nei giorni scorsi sono quello di Vincenzo Giovagnorio, sindaco appena eletto di Tagliacozzo, che sarebbe portato, come si suol dire, da Giovanni Di Pangrazio e dal consigliere provinciale Roberto Giovagnorio e di Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie, ma qui è tutto ancora da definire. I nomi che circolano nell'area del centro-sinistra sono sicuramente il collega Vincenzo Giovagnorio e il collega Lorenzo Berardinetti. Sì, sostanzialmente sono due persone validissime alle quali la mia stima sicuramente è attestata in ogni occasione, è una competizione quindi per quello che riguarderà poi la convergenza delle amministrazioni secondo il voto ponderato, insomma sicuramente ci si misurerà con le idee, con il passato e con quello che sicuramente riguarderà il futuro di una comunità che attende tante risposte ancora.